E' partita anche per l'estate 2022 l'operazione Spiagge Sicure e sono tre i comuni in provincia di Salerno, tutti nel Cilento, finanziati dal Ministero dell'Interno per 105.000 euro complessivi. Si tratta di Capaccio Pestum, Camerota e Centola che riceveranno 35.000 euro ciascuno. Un aiuto dunque per garantire legalità sui territori e rispondere alle reali esigenze di cittadini, turisti e imprenditori. Tutto ciò mentre anche il Comune di Castellabate potenzia i controlli con l'ingresso nel corpo della Polizia Locale di ulteriori 10 unità per l'estate che contribuiranno a garantire il controllo del territorio anche durante le ore notturne. Abbiamo un comando che sta crescendo, abbiamo preso altri 10 vigili ausiliari estivi che fanno parte dell'organo del comando, quindi è un comando che sta crescendo a bisogno di un coordinamento autorevole, di esperienza, quale è veramente il comandante Carmine Ibiassi. Profittiamo anche per salutare noi comandanti della stazione dei Carabinieri, Marcialo Marco Cesare, che ha avuto la nomina definitiva qui a Castellabate, a Santa Maria. Primo briefing intanto a Palazzo di Città con il neocomandante Carmine Ibiassi, il comandante della stazione dei Carabinieri Marco Cesa e il comandante del locale ufficio marittimo Sandro Rizzo. Ho trovato una realtà già ben avviata, grazie pure al lavoro che è stato svolto da chi mi ha preceduto e anche a livello di collaboratori, ho trovato dei ragazzi motivati che sono presenti sul territorio, hanno grande volontà di impegnarsi e di lavorare per la collettività.